salve amici di seili grazie di essere con noi siamo come vedete nel meraviglioso golfo del tigulio in liguria per la seconda giornata delle regate di porto di primavera di portofino organizzati dallo yacht club italiano stiamo aspettando la partenza delle barche in in gara in regata che sono suddivise in due gruppi noi oggi seguiremo in maniera particolare le imbarcazioni del cantiere solaris di aquileia e quindi insomma vi faremo vedere le evoluzioni in acqua proprio di queste barche intanto vi dico che il comitato di regata oggi ha deciso visto le condizioni di vento di optare per il percorso 5 vale a dire un percorso che porterà la flotta oltre il monte di portofino proseguendo poi diciamo così molto generalmente in direzione genova per poi fare ritorno nel nel golfo a fra poco per le fasi di partenza delle due classi per la seconda giornata delle regate di primavera di portofino ecco mentre aspettiamo che il comitato di regata posizioni di nuovo le boe perché c'è stato un salto di vento in un primo tentativo di partenza navighiamo un po fra fra la flotta e abbiamo trovato dei personaggi interessanti su anuk che è un solaris 47 ora di spalle vediamo martine magari la chiamiamo vediamo se se ci saluta martine grail due volte oro olimpico a rio ea tokyo un giro del mondo e erede della della dinastia di grandi velisti grail eccoci di nuovo nella zona di partenza dopo un primo tentativo effettuato dal comitato di regata è stato dato però un richiamo generale in realtà perché il vento proprio nelle fasi di partenza è saltato di diverse decine di gradi quindi insomma adesso il comitato ha spostato la linea l'ha rimessa in maniera corretta e ha dato i segnali il segnale per la partenza della classe irc ora avete sentito nel sottofondo il vhf che dava appunto l'ultimo minuto di questa seconda partenza noi siamo sul pin end sulla boa e seguiamo queste fasi come vedete c'è supernica che si tiene a dovuta distanza e anche gli avversari si tengono a dovuta distanza da supernica per questi grossi foil che potrebbero insomma in qualche modo complicare la situazione c'è una barca di grosse dimensioni che sta arrivando sottovento sono malgrado il vento decisamente leggero direi che le fasi sono 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 concitate siamo ecco partenza partenza apparentemente regolare perlomeno per quello che riguarda il comitato di regata molto bella molto affascinante ora noi chiediamo ad alessandro il nostro driver per oggi di continuare così a seguire la cosa e a farci vedere la sfilata delle delle prue delle barche come dicevamo prima quello di oggi sarà un percorso costiero quindi su due boe e poi ritorno nel golfo del tiguglio speriamo che il vento e la brezza sia sia della nostra dalla nostra e noi seguiremo in modo particolare come vi dicevamo le imbarcazioni oggi le imbarcazioni del del cantiere solaris lascio un attimo la parola alle immagini con il nostro videomaker eugenio che che sta prendendo tutta la sfilata delle delle imbarcazioni di questo primo gruppo ci sarà poi una seconda partenza per il gruppo delle barche cosiddette open che correranno in tempo reale non incorretto con con un rating assegnato sullo stesso sullo stesso percorso comunque che sono un pochettino meno numerose questa è il gruppo più folto della delle regate di primavera di portofino stiamo inquadrando il beppe croce la barca del comitato di regata portacolori come vedete l'arclavo italiano e stiamo seguendo le fasi finali siamo nell'ultimo minuto della della seconda partenza di questa regata di sabato la seconda delle regate di primavera questa è la classe open che come vedete è meno numerosa dalla classe irc che abbiamo visto in precedenza entrambe comunque le classi ecco ho lasciato un attimo di bianco per farvi sentire il suono del vhf dicevo la una una classe meno numerosa dove comunque sono presenti due solaris e il 50 enigma e il 64 free time anche queste barche della della classe open che corrono in tempo reale regatteranno sul medesimo percorso quindi su un percorso costiero il numero 5 che li porterà al largo oltre il monte di portofino per poi fare il ritorno nel golfo lascio ecco ecco eugenio la possibilità di fare dei primi piani delle nostre bar che questo è proprio free time dell'armatore alessandro asti molto elegante e anche molto potente cammina cammina molto bene direi la barca sotto vento abbiamo enigma dell'armatore mansuti che abbiamo intervistato questa mattina in banchina santa margherita e che poi sentirete ci ha raccontato della della lunga storia della sua famiglia con il cantiere solaris la famiglia appunto di nea mansuti ha avuto ben quattro barche uscite dal cantiere di aquileia primo piano cerchiamo di di prendere da vicino i nostri i nostri amici dell'equipaggio di enigma senza senza disturbarli troppo anche perché questo è un momento abbastanza importante appena appena dopo la partenza per decidere insomma se quale parte del campo prendere per uscire dal golfo ci siamo spostati velocemente grazie al nostro gommone alessandro nostro driver perché volevamo raggiungere questo luogo veramente iconico non solo in italia ma nel mondo per la vela e per la bellezza della della natura e siamo proprio sul sul monte di portofino e in prossimità del faro per vedere scorrere le barche passare le barche che adesso vedete crede Eugenio stia inquadrando Cetilar che oggi fly in Nica che oggi insomma trova delle condizioni decisamente più favorevole per far volare la barca e poi via via tutto il resto il resto della flotta che sta navigando abbastanza velocemente date le condizioni insomma divento medio debole e allontanandosi uscendo dal golfo del Tiguglio per andare a girare la boa 6 dopo un ulteriore boa fuori dal golfo poi la flotta ritornerà non so se Eugenio vuoi fare un po' una panoramica se ce la fai oggi nel golfo c'è un grande affollamento non solo nelle nostre barche della regata ma in realtà ci sono navi da crociera piccole barche da crociera famiglie, motoscafi insomma c'è un po' di tutto direi una festa del mare grazie al primo weekend di tempo veramente clemente di questa stagione Eugenio di nuovo sta cogliendo tutte le barche un po' sparpagliate e soprattutto quelle del primo gruppo si sono subito divise con le barche più grosse e più veloci naturalmente che hanno preso la testa e le altre che in qualche modo inseguono e forse hanno provato a trovare, andare a cercare una zona di vento un po' più intenso La testa della flotta, perlomeno la flotta IRC, quella più numerosa ha ormai doppiato il faro di Portofino, il monte di Portofino e sta uscendo per raggiungere la boa numero 6 noi stiamo pian piano andando insieme a loro, l'aria come vedete è un po' calata ma comunque permette alle barche di muoversi molto bene e ci siamo avvicinati a Mistral Gagnan che è un'altra imbarcazione del cantiere Solaris, un 50 mi sembra anche con un equipaggio abbastanza agguerrito come vedete tutti sotto vento, gambe fuori per tenere la barca il più possibile in assetto vi lascio godere un po' delle immagini di Eugenia, di questa barca veramente molto bella come vedete passa sull'acqua con estrema gentilezza provocando veramente zero onda e zero scia siamo al traverso adesso della boa numero 6, la prima boa, non la diffiderai boa di bolina perché in realtà poi le barche sono riuscite ad arrivare con un solo bordo di bordo a questa boa, insomma una bolina larga, adesso siamo proprio sulla testa della flotta primo ancora una volta devo dire con una prestazione ottimale come sempre come ci ha abituato a vedere ITA 102 di Calvini con un equipaggio di giovani ragazzi dello Yers Club italiano e secondo sulla boa Flying Nica che quindi oggi è riuscito malgrado le condizioni di vento leggero a sfruttare bene quello che aveva a disposizione per ci spostiamo un pochettino grazie al nostro driver la manovra probabilmente Ever Flying Nica richiede un po' più di spazio però questo ci permette anche di fare delle belle riprese ora credo che si stiano preparando alla manovra per mettersi poi in rotta per la boa successiva siamo un po' sballottati ma stoicamente riusciamo a seguire anche il passaggio di boa della terza barca che se non sbaglio è un grosso suon e restiamo qua in zona attendendo il passaggio delle barche meno potenti di minori dimensioni e soprattutto le barche del cantiere Solaris che oggi stiamo seguendo in maniera particolare ed ecco Mistral Gagnà il primo Solaris sulla boa settimo in assoluto sono infatti passate le barche di maggiori dimensioni come vedete l'aria è veramente molto leggera però è stupefacente in un certo senso vedere come queste barche riescano a essere performanti anche con questa brezza leggerissima e tutti stanno camminando molto bene almeno in questo primo gruppo dove ci sono le barche più forti poi speriamo che anche il resto della flotta che è in questo momento un po' attardata riesca ad arrivare sulla boa complimenti comunque a Mistral Gagnà perché dopo una bella partenza ha sempre mantenuto questa posizione siamo sempre sulla boa 6 le barche stanno lentamente arrivando e girando quello che vediamo adesso che Eugenio sta inquadrando è Fralli la barca del sindaco di Genova Marco Bucci che tutta sapete è grandissimo appassionato mentre invece a seguire 17831 Naka One il Solaris 50.2 dell'armatore Paolo Oligieri che anche lui è riuscito insomma malgrado questa situazione divento leggerissimo a raggiungere la boa sopra di noi c'è il grosso Wall-E Sensei che è rimasto effettivamente un po' attardato anche perché è partito con il secondo gruppo e quindi insomma anche con condizioni di vento ancora più leggero rispetto al primo raggruppamento ci sono adesso direi un altro piccolo trenino di 4-5 bar che stanno raggiungendo la zona della boa numero 6 la prima di questo percorso costiero ma la situazione non promette diciamo così grandi burrasche non so se Eugenio vuoi inquadrare la testa della flotta alla nostra poppa effettivamente riusciamo a vedere la boa ma riusciamo a vedere anche delle barche molto dritte e molto poco veloci siamo ancora qui mi verrebbe da dire e nell'attesa di scoprire magari dal comitato di regata quali sono le intenzioni per questa prova della seconda giornata delle regate di primavera di Portofino seguiamo il passaggio di ancora altre barche e in particolare ecco adesso stanno arrotolando per poi srotolare dall'altra parte vicino a noi troviamo un'altra barca del cantiere Solaris il 64 free time di Alessandro Asti seguiamo la manovra con una signora prodiera molto agile come abbiamo visto anche prima dalle immagini precedenti free time ha un equipaggio veramente familiare con ragazzi, giovani, bambini mi sembra che si stiano divertendo parecchio malgrado la bonaccia verrebbe da dire sul mare luccica comunque sul mare segna un pochettino di vento veramente una bava, un refolo di vento noi ci stiamo pian piano avvicinando a ITA 1612 che è a NUC il Solaris 47 su cui come vi abbiamo raccontato prima delle fasi di partenza naviga tra gli altri anche Martina e Grael due volte medaglia d'oro all'Olimpia di un giro del mondo e molti altri successi non so quanti campionati del mondo in realtà abbia vinto nella classe 49er la barca è molto ben assettata equipaggio alle Sarti per tenerla un po' sbandata sotto vento e cercare di aumentare la velocità in realtà ci sembra di vedere che Martina non sta timonando ma piuttosto alle scotte e probabilmente farà un po' di tattica da segnalare che appunto tra tutta la flotta questa è la barca che probabilmente si è spinta più in là nel golfo diciamo verso Sestrellevante piuttosto che Portofino per portarsi un po' più alta e cercare di sfruttare questa corsia di vento che adesso sembra avere per arrivare sulla boa credo che Eugenio possa farvi vedere come in realtà le barche più avanti siano un po' impantanate allora come potete vedere c'è una situazione piuttosto anarchica sul campo di regata in questo momento dato le condizioni di vento abbiamo barche con lo spi barche senza spi angoli completamente differenti chi prova la carta a largo chi cerca di andare il più direttamente possibile sulla boa senza fare troppa strada insomma una situazione veramente difficile per gli equipaggi da decifrare insomma la situazione è un po' questa effettivamente una regata costiera si prende si prende quel quel che c'è e gli equipaggi sono in moltissimi casi anche familiari o di amici quindi immaginiamo che si possano in ogni caso divertire ora la flotta appunto dovrà tra nei primi che hanno già girato dovrà affrontare la boa e poi ritornare verso il golfo e verso la linea del traguardo di Portofino noi continuiamo a seguire fedelmente l'evoluzione mare a specchio sembra il titolo di un film forse non è il titolo di un film sulla vela su delle regate però questa è la situazione l'aria è quasi calata completamente le barche stanno veramente lentamente 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 procedendo verso verso la boa fra poco il primo a doppiare la boa sarà Mistral Gagnat che è il primo dei dei Solaris in regata lo seguiamo in questa manovra devo dire non particolarmente veloce ma poveri i ragazzi dell'equipaggio fanno fanno quello che che possono aspettiamo di vedere se il comitato organizzatore deciderà qualche cosa se dare una riduzione o meno quantomeno per le barche del secondo gruppo cioè della classe open delle quali ci sembra di vedere non ha ancora girato nessuno insomma abbiamo rischiato che di non vederli perché le barche ci stanno passando un po' da tutte le parti nel tentativo di trovare quel refolo che li porti sulla boa però ora ci siamo accorti che proprio sotto di noi che aveva trovato un canale di aria tutta sua un po' più sotto costa rispetto agli altri c'è Bambù 4 il Solaris 50.0 di Franco Renzo che sta effettivamente arrivando con buon passo considerate le condizioni generali sulla boa numero 7 e tra l'altro arriverà di pochissimo alle spalle sulla boa di Free Time che invece è il Solaris 64 per cui insomma una barca decisamente più grande e più invelata la situazione è molto molto strana tipica di questa zona della Liguria in questa stagione con il vento che non segna sull'acqua qualcuno ce l'ha qualcuno non ce l'ha qualcuno al suo e poi c'è quello di tutti comunque insomma per l'evento è dedicato ai cantieri e a equipaggi a volte familiari a volte di amici e comunque con lo scopo del divertimento anche questo va bene abbiamo fatto una lunga cavalcata in gommone con una bella velocità abbiamo raggiunto per registrare e raccontarvi questa novità della notizia della giornata di oggi la seconda delle regate di Portofino di primavera ossia che Flyinica è riuscito finalmente a lasciare il resto della flota finalmente non nel senso negativo del termine anzi più che positivo e pur non volando veramente mai ha preso un margine notevolissimo adesso sta ecco lo vediamo anche se è un po' da lontano sta girando l'ultima boa prima di fare lo stocchettino che lo porterà sulla linea di partenza scusate sulla linea di arrivo posta proprio qua nel nel golfo fuori Santa Margherita Ligure ecco ora ci viene incontro Flyinica per cui possiamo possiamo apprezzare direi che riesce comunque a sviluppare una una bella velocità tutto sommato direi che qua in questa zona nella zona dell'arrivo adesso ci saranno cinque cinque nodi massimo sei probabilmente e quindi insomma molto bene Flyinica di Roberto della Corte ultimi istanti ultimi secondi di di regata per Flyinica che si dirige velocemente sulla linea del traguardo ecco inseguita e circondata da gommoni mezzi di assistenza fotografi vabbè bellissima immagine bellissima immagine siamo sulla linea del traguardo sentite alle nostre spalle il comitato di regata che dà i segnali del pronto perché sta arrivando Ita 102 che ancora una volta ha messo in fila il resto della flota con una prestazione davvero ottima e quindi e quindi chiude diciamo così al sepo fondo posto in reale tra gli applausi naturalmente dei suoi fan anche perché l'equipaggio è composto di giovani ragazzi dello Yacht Club italiano quindi dopo Flying Nica abbiamo Ita 102 pochi secondi e aspettiamo il terzo in tempo reale sul traguardo di questa seconda giornata delle regate di primavera di Portofino dello Yacht Club italiano che ci pare proprio essere manticore fra pochi secondi così chiudiamo il podio virtuale e reale di questa seconda giornata punta esattamente verso di noi in realtà punta verso la linea del traguardo il Milius 60 manticore con un bel equipaggio in cui abbiamo visto anche probabilmente qualche professionista e chiude così il il podio di oggi della seconda giornata della regata di primavera tra gli applausi del pubblico molto bravi noi per oggi concludiamo qua con questo podio la nostra diretta di sailing dalle regate di primavera di Portofino dandovi comunque appuntamento ai prossimi giorni per le classifiche finali altre notizie altre interviste e soprattutto le nostre interviste a armatori e responsabile del cantile Solaris che oggi abbiamo seguito in modo particolare nelle acque del Tiguglio grazie ciao ciao